ho perso lo spirito, sono un amico serie B adesso gli stai messi eeeh, pensai che pensai che pensai che pensai che ha cambiato marca noi che dica io ho perso lo spirito sono un amico serie B una volta ci fermavamo qualcuno me lo dica, adesso invece questo rutto le palle aspettate, io prendo no no c'ho i torroni eccomi regalo una volta settimana ma quando è cazzata te dici però non è proprio è la quindici eeeh 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 facci a vedere fai a termine che dopo non termine o più i pizi eeeh 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 se c'è la Castelli, il professor deve fare foto il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti